Nello scorso episodio gente abbiamo affrontato un bel po' di cose, abbiamo scoperto la statua umanoide, siamo andati da Yosha e poi siamo andati lontani per arrivare infine qui dove c'è un grosso disegno di uno zonau e lì ci stanno dei cavalli Quindi quest'oggi andremo in uno stallaggio dato che ce l'abbiamo proprio là ma prima voglio prendere questo cavallo che se è nero è perfetto non è prettamente nero ma montiamo e mi fa schifo Allora voglio prendere un cavallo abbastanza potente quindi per favore no manco lui è quello giusto anche se sono curioso di andare in questo piccolo altarino E qui sotto? Uh andiamo un attimo qui sotto perché gente così ritorno indietro per l'appunto un attimo che torno indietro Ok dato che prima di entrare dentro la caverna abbiamo parlato con sto tizio non vorrei che fosse una subquest quindi le caverne sono davvero pericolose mi sa che dovrò rinunciare all'emblema di rospetro Cosa? Sei davvero riuscito a procurarti un emblema di rospetro? Certo che devi essere proprio coraggioso per infilarti in una grotta e affrontare una creatura del tutto sconosciuta Se hai qualche emblema di rospetro ti consiglio di andare a trovare i due tizi strambi dello stallaggio del bosco Ok Lo stallaggio si trova nelle terre di Holden quindi gente dovrebbe andare alle terre di Holden anche se in realtà è come secondo punto di riferimento Prova a cercare a nord est Prova a cercare quei due nella grotta vicino allo stallaggio Gli ho sentiti parlare di una cosiddetta tunica degli spiriti Pare che si tratta di un tesoro raro in loro possesso Forse convertrebbe anche a me fare affari con loro Ok gente ma oggi per l'appunto Avrei deciso di andare allo stallaggio Perché se non erro C'erano delle cose che Controlliamo subito Allora voglio prendere però prima Quel cavallo E oggi vorrei attivare quella torre lassù Oggi Quindi Cavallo per favore vieni qua Non andartene troppo lontano Anche se Quell'altro cavallo Lo gradirei di più Colore nero Ah è mulatto dietro I cavalli mulatti in generale Dovrebbero Veramente Sei dovuto venire a rompermi le scatole Vieni qua Ti prego Sapete che c'è Guardandolo bene Sembra pure un po' stupido Ma gente Detto ciò Facciamo Una bella foto Cancalla Ok Va bene Cavallo Quindi Accovacciamoci E può darsi che Su quel masso Ci sia Un Coso Un korogu Ah Tre tacche Va bene Questo lo andiamo a registrare Detto ciò Andiamo subito Allo stallaggio No amico mio Accarezza Accarezza E let's go Ok Penso che anche All'altra volta Però questo mi ricorda Troppo Uno Zadelle parla Benvenuto al nostro stallaggio Ti assistiamo in tutto Ciò che riguarda i cavalli Siamo anche Una locanda Aspetta Non sei ancora un membro A quanto sembra Il nostro stallaggio è aperto Ai soli membri Del consorzio Se vuoi usufruire Dei nostri servizi Dovrai registrarti Mamma mia Potresti Potrei sapere il tuo nome Padron Link Quindi devi chiamare Il signor Link Bene Tutto a posto Ci occuperemo Della registrazione In tal caso Vuoi che ti spieghi Come funziona Il sistema di stallaggio So già tutto Ah E così Ok Ricominciamo dall'inizio Benvenuto al nostro stallaggio Se catturi un cavallo selvatico E lo porti qui Lo puoi Registrarlo Puoi registrarlo Se desideri alloggiare qui Da noi Rivolgerti al bancone interno Detto ciò Posso esserti utile Registro un cavallo Cattura cavalli E registro un cavallo Molto bene Il cavallo da registrare è Secondo quanto leggo sul registro Ci hai già affidato Dei cavalli in passato signore Gente Non mi dire che C'è tornado Pertanto Procederemo a trasferire Le precedenti registrazioni Puoi controllare Più tardi Ok Ricominciamo dall'inizio Il cavallo da registrare È questo Qui Giusto Sì Quindi Al momento Non ho letto Caspita Di solito Registrare un cavallo Costa 20 rupie Tuttavia Al momento È attivo Una promozione Per la Cui La prima registrazione È gratuita Dunque Sei d'accordo Se sei d'accordo Finalizzerei La registrazione Per prima cosa Scrivi qui Il nome del cavallo Striscia Vediamo Se va bene Ok Il nome Il nome quindi sarà Striscia Ho capito bene Sì Abbiamo terminato La registrazione Del nome Vuoi portare il cavallo Via con te Lo lascio qui Perché in realtà Voglio un altro Cavallo Ce ne prenderemo cura Con tutto il cuore Grazie per esserti Rivolto a noi Gente lì c'è un cane Lì c'è un cane Gente Chiedo perdono Mi stavo per dimenticare Di spiegarti come funzionano I nuovi punti Stallaggi Infatti questo Ce lo devi spiegare Già è un sistema Che premia la fedeltà Dei clienti Ogni volta che Usufluisci Dei nostri servizi Guadagnerai i punti Ad esempio Quando alloggio Registra un cavallo In uno degli stallaggi Distribuiti Nelle varie regioni Oltre a celebrare La tua prima visita Al nuovo stallaggio Dorm Dorme dolce Hai anche registrato Un cavallo Perciò Ti assegniamo Due punti Ok gente Abbiamo anche Dei premi incredibili A seconda Di quanti punti Riuscirai Ad accumulare La consegna La consegna Premi Si effettua Al bancone Del registro Laggiù Per maggiori informazioni Sul regolarmento E i premi Consulta Il registro Torna presto A trovarci Gente Prima Diamo da mangiare Al cane Perché Gente E' molto importante Dare da mangiare Al cane Detto ciò C'abbiamo Sette mele Prendi in mano E Amore No Scatta immagini Dai E' troppo Bello Così Questa Quanto Sei bello Ok Posso prendere in mano Una mela Però Grazie Mi hai distratto Vai Mangia 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 Bravo Dobbiamo dargli da mangiare Tre volte Bravo Anche se non ho capito bene Come hai fatto A mangiare Intendo Vai Mangia Bravissimo Amore E prendi L'ultima Ok L'ultima volta Vai Cucciolo Mangia Mangia Ok Ha fatto le feste E adesso Portaci A Passeggio Gentilmente Grazie Ok Già vedo Dov'è il tesoro Un po' di parole Però noi Lo seguiamo Il nostro Fido Cagnolino Vabbè Sta lì Lo faccio Semplicemente Per Scopo Intertenitivo Amore Quanto No vabbè Ma io dico Come possono essere così Carini I cani Ok Mi dispiace Ma questa è una cassa Nuova Mai vista prima Rupia Rossa Ci servono I soldi Gente Quindi Oh La scopa Lo scopettone Un attrezzo Per pulire Di solito Usato per Spazzare i pavimenti Realizzato da un artigiano Ha una struttura Piuttosto solida E può essere Usato Come una sorta Di arma Ok L'ho registrato Ma posso Anche Scendere Ok Interessa quella rana Ok Rana Tosta Una rana molto rara Chiama i posti umidi E bui Se cucinata Con materiali Mostruosi Produce una pozione In grado di aumentare Temporaneamente Il vigore Oltre il massimo Buono E Lucentino Un fungo Che cresce Nelle caverne Produce Un enzima Luminescente Usalo per creare Piatti Che consentono A chi Li mangia Di brillare Per un certo periodo Utilissimo Gente Utilissimo E anche Questi Così qua Lucertola Scalatrice Una lucertola In grado di Arrampicarsi Su qualsiasi Superficie Grazie alle sue Zampe Conventose Cucinata Permette di creare Porzioni Che aiutano A scalare Pareti Bagnate Gente Meno male Che abbiamo Il pentolone Portatile Non possiamo Fare Un granché Mi sa Qui Però Se io Mi avvicino E vabbè Solleva E' interessante Anche se Ok Ok Gente Ho fatto Bene Uh Manomale Che Ci ho Riflettuto Su Non dovrei Cadere No A quanto pare No Vediamo Cosa c'è Qui Gente Solamente I trucchi E i segreti Li potete Trovare Qui Rupia Viola De fortuna Mamma Mia Ok Vai Ero Ultramano Quando è così Sono Sono riuscito A salire Con un po' Di ingegno Mamma mia Le cose che si possono fare Su Tears of the Kingdom Sono Veramente Spettacolari Detto ciò E' notte Siamo scesi Che Era giorno Ciccio Grazie Quindi Dato che io Voglio ricevere Un po' di punti Voglio Uh Terry Cos'hai per me Ehi la Anche tu In viaggio Lungo la strada Della vita Che coincidenza Mi chiamo Terry Mi riconosci Dal mio Enorme zaino Che mi fa sembrare Uno Scarabeo gigante Ma la mia missione È girare per le strade Del mondo Nonostante i tempi duri Per servire I miei clienti Vendo un sacco Di insetti speciali E oggetti Indispensabili Per ogni viandante A prezzi modici E se sei Accorto di rupi E sono lieto Di comprare Tutto quello Che non ti serve Le gemme E gli altri preziosi Si vendono Sempre bene Se ne trovi Vendi le a me E ti pagherò Profumatamente Allora Facciamo affari Compro Perché voglio vedere Cosa hai per me Niente di che Mi dispiace Terry Non mi sei utile Oggi Ciccio Posso dormire? Benvenuto allo stallaggio Link Desideri alloggiare Qui da noi? Si Va bene Letto normale 20 rupie Fino al mattino Grazie Dormi bene? Ok Gente Buongiorno Buongiorno Hai dormito bene? Ti assegniamo un punto In segno di riconoscenza Per averlo alloggiato da noi Grazie Premio disponibile Oh Link A quanto pare Hai accumulato dei punti Se desideri ricevere un premio Chiamami dal bancone Dove c'è il registro Torna presto a trovarci In realtà Vorrei cominciare a capire Cos'è Quindi Leggiamo il registro Controlla i punti Situazioni Punti Installaggio Devi ottenere ancora due punti Per ricevere il tessuto Del Dio dei cavalli Puoi controllare i punti necessari Per il prossimo premio Anche nella tua tessera Punti Installaggio Gente Però io lo voglio Voglio ottenere il premio Ottieni i premi Sì Sì Un momento Vuoi una ricompensa Per i tuoi punti Installaggio Dico bene? Ecco la tua ricompensa Per tre punti Una Bardatura Da tiro Una solita Bardatura Abbinata A una Sella Se colleghi Un carro Un oggetto Potrà Trainarlo È un tipo di equipaggiamento Per cavalli Se hai una bardatura Puoi usarla Per agganciargli Varie cose Puoi anche collegare Un carro O un oggetto In tuo possesso Link Se accumigli ancora Due punti Otterrai il tessuto Del dio dei cavalli Link Bene Sapiamo cosa fare oggi Anche se È un oggetto speciale Che puoi Usare Alla Tintoria Del villaggio Finterra Delle terre Di necluda Finterra Ti siamo grati Per il tuo continuo Appoggio E la nostra fiducia Quindi Adesso taglierò E voglio andare Pure lì Registrare un altro cavallo Che Ho deciso di chiamarlo Chica Che molto probabilmente Non userò mai Perché è molto debole E adesso ho deciso Di dormire Hai dormito bene? Sì Ti assegno un punto Ok Vediamo Questo premio Disponibile Sì lo so La cosa che mi interessa Di più Mamma mia E quanto mi manca Per il premio Ottieni premi Sì sì Un momento Vuoi una ricompensa Per i tuoi punti Stallaggio Dico bene Sì Come ricompensa Per i tuoi Cinque punti Eccoti il tessuto Del dio dei cavalli Ok Un robusto tessuto Decorato Con il disegno Di Ipan La divinità Dei cavalli Ok Potrebbe essere usata Per costruire Una paravella Oh Non ho letto Sembra che la tintoria Del villaggio Finterra Abbia cominciato A offrire Un nuovo servizio Con i tessuti Come questo Dovresti provarlo Se ti capita Di passare Dal villaggio Finterra Ok Siamo che Comunico Ancora due punti Sbloccheremo Il letto Di Ipan Grazie al quale Potrai ricevere Una profezia Del dio Ipan Ti siamo grati Per il tuo Continuo appoggio E la fiducia Ok Questa è tipo Una subquest Ma adesso Io direi Di prenderci Il nostro Bellissimo Tornado E andare Su Quel Tempietto Che si trova Qui In mezzo E c'è una persona Chi sei tu Chissà cosa C'è disegnato Raga È Impa Oh Che bello Vederti In un posto Come questo Dopo così Tanto tempo Link Impa L'anziana Ho sentito Che eri Scomparso Per un po' Ma la cosa Importante È che tu Ora Stia bene Grazie Impa A proposito A proposito Dove è Zelda Volevo dire La principessa Zelda È scomparsa Come Dici Non è stata Ancora trovata Dobbiamo assolutamente Continuare a Cercarla Allora Link Quando la principessa Zelda è scomparsa Mi sono interessata A questi disegni Giganti Apparsi sul terreno Proprio nel momento In cui C'è stato Il cataclisma Oh mamma mia A quanto pare Ne sono apparsi In tutto il mondo Ora viaggio insieme A Vogado Per vedere Questi Geo Geoglifi Ho scoperto Questo Geoglifo Quando ho visto Dall'altro Mentre Ero su un alto Piano Beh Pure noi Ma così Ma da così Vicino Non riesco a studiarlo Nella sua interezza Perciò ho pensato A un modo Per poterlo Osservare Dall'alto Pruna Mi ha dato Un mezzo Per salire In cielo Si chiama Aereoglobo Aereoglobo Veramente Purtroppo Il vento L'ha trascinato via E il pallone Si è staccato Ho pensato E ripensato Un modo Per riattaccarlo Alla base Ma Non mi è venuto In mente Niente di utile Ci pensiamo noi Impa Ci pensiamo Gente Lore Un tempo A capo Dei Sheikah E' stata al servizio Della famiglia reale Di Hyrule Per generazioni Testimone Della morte Della famiglia reale Ha aiutato Link a sconfiggere La calamità Già una volta Anche se Ora C'è la nipote Paglia Alla guida Dei Sheikah Impa E' più vivaci Che mai E ora Zelda E' scomparsa Si è messa a indagare Sui misteriosi Geoglifi Sparsi per il mondo Convinta Che nascondono Preziosi informazioni Sulla principessa Beh potrebbe Essere Gente Che Zelda Avrebbe fatto Una cosa del genere Non ne dubito Per nulla Al mondo Magari Se lo faccio Così Grazie E' ok Fatto Fatto D' Fatto Brucia No Meno male Gente Meno male Ma cosa Il pallone Sta volando Via E' senso Di me Ops Ops Abbiamo sbagliato Ricominciamo dall'inizio Io voglio solo Vedere il Joglifo Dall'alto Basta Che mi fai salire Deritta In verticale Eh si Ma Impa Vieni Eh no 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 Tornado Buono Impa Ok Oh ma L'aereoglobo Me l'hai riparato Ti ringrazio di cuore Link Beh Chi ne dici Vuoi venire con me Certo andiamo A vedere il Joglifo Allora Aviamoci subito Scusami Link Potresti occuparti Di sollevare in aria L'aereoglobo Ma per me Non c'è problema L'ho già fatto prima Se accende un fuoco Qui L'aereoglobo Dovrebbe iniziare A sollevarsi Quando sei pronto Possiamo decollare Gente Impa E' molto antipatica Eh Allora Mi hai fatto sprecare Un Fuoco No No gente Mamma mia Ok Oh Certo che siamo Proprio in alto Ora Ho un po' Di vertigini Ma adesso Il Joglifo Si vede benissimo E' tutto Grazie a te Link Se devo Essere sincera Nella Cronica Del villaggio C'erano già Degli accenni Su questo Joglifo I testi Dicono che Gli antichi Raffiguravano Ciò che Videro In enormi Joglifi Disegnati vicino Alle lacrime Della Del drago Ok Ma Cos'è che Videro Gli antichi Ancora Non capisco Cosa si intende Con queste Lacrime Del drago Non saranno Quelle che Porta Ha portato La mummia In testa E anche La mano Se davvero I Joglifi Furono disegnati Vicino alle lacrime Del drago Significa Che potremmo Trovare una Di queste Lacrime Da qualche Parte Nei dintorni Del geoglifo O no Potrebbero Anche esserci Degli indizi Sulla principessa Zelda Secondo me Dovremmo Indagare Insieme Se c'è qualcosa Del geoglifo Che ti Incuriosisce Potresti saltare Direttamente Da qui Usando la Paravela Non preoccuparti Per me Posso Atterrare Benissimo Da sola Il problema Non è Tuo Ma io Come faccio A salire Gente Io Come faccio A salire Detto Ciò E Uso Un attimo In pa In pa Bene Allora Ciò che Voglio andare A vedere Effettivamente Sta nell'occhio Perché Perché Non Anche se Ce l'ha Una in mano Proviamo A utilizzare La caduta Libera No Nella mano Gente Dobbiamo andare Perché C'è qualcosa Che mi Incuriosisce Sia nella mano Che qua Meno male Che La paravela Si apre Sempre Comunque Posso Sollevarla Mi pare strano Questo masso Ma la cosa Più strana È qui Questo sasso Qua Solleva Corogu Mi hai trovato Non volevo Trovarlo Gente Non volevo Ciao Ma Eccoci qua Detto Questo masso È strano Quindi Gente Prendiamolo E portiamolo Direttamente Dove c'è L'occhio Di questa statua E voglio Tanto capire Se questo Lo posso Mettere a posto Gente Chiudi Esamina Ok Non dovevamo Dovevamo Si è attivato Questo Ok Una lacrima Gente Cosa sta succedendo Per l'esattezza Si è attivato Un reverto Non mi dire Che c'è la principessa Zelda No Un ricordo ZELDA È ZELDA Gente Gente La lacrima Uniglia e uno Zona Raul Ma dove sono Non volevamo Spaventarti Perdonaci Mi presento Io sono Sonia Sonia E tu invece Come ti chiami Io sono La figlia di Re Rahm Di Hyrule Mi chiamo Zed Che risposta Inaspettata Il regno Di Hyrule È stato fondato Da noi due Mi sembra Bizzarro Che ci sia Un altro Re Voi due Avete fondato Hyrule E voi Siete Il re Sì Io Sono Raul Sovrano Di queste terre La regina Sonia E il re Raul No Non può essere Siamo nel passato Gente È bellissimo Ok Quindi Da adesso in poi Sbloccheremo I ricordi Proprio Come in Breath of the Wild No Non mi dire Che scompare Il disegno Ok Ma dove Mi trovo Gente Dopo essere Scomparsa Nelle profondità Del castello Zelda Si è risvegliata Al cospetto Di due Di due persone Che si fanno Chiamare Re Raul E la regina Sonia Zelda E turbata Quei nomi Sono stranamente Famigliari Perché Gente Loro Hanno fondato Hyrule O Hyrule E Sonia È decisamente L'antenata Di Zelda Impa Impa E i Geoglifi Geoglifi Sì Link Sembri Pensieroso Che succede? Ti raccontiamo Tutto Impa Ti raccontiamo Tutto Incredibile 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 Ritrovare Ritrovare la principessa Zelda A proposito I nostri libri Parlavano di Geoglifi Anche al Tempio Dimenticato Let's go Di nuovo Perché mi hanno Interrotto Il Tempio Dimenticato Si trova Sul fondo Di una Gola Nella regione Di Ebra Penso Che dovremmo Visitarlo Ok Impa Detto ciò Gente Forse Mi sono Dilungato Anche Troppo Abbiamo Incontrato Impa Tutto Quanto Ma io Ho visto Una cosa Qui Gente Questo è Un accampamento Boblin Quindi Uso L'unghie Di Inox Ti dà Più 14 Di danno Quindi Naggia No Cos'è Un Sassarok Gente Un Sassarok Gente Un Sassarok Ok Sta venendo Tornado Ma Prima Di Tutto Io Voglio Sapere Se Questo Lo Posso Utilizzare No Non Può Essere Rispedito In Cielo Peccato Vai Tornado Detto ciò Io direi di Cavalcare Tornado Decisamente Quindi vai E andare Alla Torre Quindi Let's go Almeno Così Facciamo Tutta Questa Prima Parte E Concludiamo Anche L'episodio No Ciccio Ok Qui Grazie Qui c'è un Korogu Gigante E noi sappiamo Che il Korogu Gigante Significa Soltanto E soltanto Una Cosa Piccio Ma a me Mi serve Quello La E di È vitale Importanza Approcciarsi Lentamente Aiele Però Non mi ricordo Come si chiama Minimamente Perché Questi Fanno Male Che Voi Non Avete Idea Perfetto Meno Male Che Abbiamo Lui Ora Essenza Di Mostro Risultato Dalle Ricerche Di Kilton Sui Mostri È Una Spezia Particolare Che Può Essere Usata Per Cucinare Si Dice Che Si Adatta Per Preparare Vari Piatti A base Di Mostro Ma Non Sappiamo Il Ma Maledette Stellucertole Ora Rupiglio Stai buono Non Andartene Io voglio Solamente Le tue Rupie Mannaggia Rupo Oniglio Niente Peccato Adesso Che Ci siamo Surfiamo Un attimo E andiamo Da lui Perché Io voglio Assolutamente Aumentare Quegli alberi Laggiù Mi fanno Tanta Paura Piccio Ok Vabbè Non Non è Tanto Difficile Sconfiggerli Fatto Ora Dacci Le cose Ok Piccio Gli alberi Brettoni Non ci sono Più Ok Adesso Mi puoi Aumentare Cortesamente Lo spazio Ma tu Tu mi vedi Ciao Mi chiamo Caston Sono il musicista Del boss Dei Korog E A nord est Sono famoso Per la mia danza Con le Maracas Grazie per l'aiuto Piccio Per ringraziarti Farò un bello Ballo Ballettino Per te E ti Allargerò La borsa Grazie Uffi Però Le maracas Sono vuote Prima c'erano I semi Korog Che non ci sono più Non suonano più Come prima Piccio Devono averli rubati I figli del bosco Mi basta Un seme Per ricominciare a ballare E cantare Per ringraziarti Con i miei poteri Ok C'abbiamo Tanti Semi Mentre Mentre ero Preso Dal panico Che profumino Disse Micorogo Ci sei riuscito Ti sei fatto dare I semi Korog Dei figli Del bosco Se mi dai Un seme Korog Io ti allargo La borsa Grazie Piccio Che bello Che bello Quella Delle armi Quelli Degli scudi Delle armi Decisamente Ebbene Devi Darmi un seme Korog Ok Ok Troppo divertente Va bene Ok Grande Grande È diventata Grande La borsa Delle armi Yuppi Allora Sono stato bravo Sei felice Se mi porti Altri semi Korog Ti amplierò La tua borsa Per te È una sfida Secondaria Ma Almeno Sto facendo Un viaggio E adesso Pensavo di andare Est Sono tempi Pericolosi Questi Ci sono sempre Più mostri In giro E io voglio Solo trovare Un posticino Rilassante Ma l'importante È che Sia anche Vivace Con tanta gente Attorno Piririciu Hai ancora con te Dei semi Korogu Starò qui Ancora per un po' Se vuoi Chiamamenti La Di nuovo La capienza Ci ho ripensato Picciu Ci rivediamo Ok Caston Ha una passione Sfrenata Per il ballo E pare Che solo Alcune persone Siano in grado Di rivederlo Ha il potere Di aumentare La capienza Della borsa Di link Quando lo fa Si scatena In una danza Irresistibile Accompagnato Dalle sue Maracas Di cui Purtroppo Tenda a perdere I semi Con luogo Un po' Troppo spesso Ok Gente Detto ciò Può venire Il mio Carissimo Destriero Grazie E Questo È una Gran clava Massiccia Gente È una ghianda Sei arrivato? Mio nobile Destriero Una domanda Ok Gente Vai Tornado Non gli piace Essere trainato Cioè Non gli piace Trainare roba Quindi Dobbiamo Trovare Qualcun Altro Oltre A tornado Quindi Let's go Ok Gente Tornado Vai Gente Altri Altri Cavalli E io Ne ho bisogno In questo momento Questo Qui Mi sembra Particolarmente Bello Quindi Lo voglio Ma dai Come mi hanno fatto Sentire Ok C'ho un metodo Per Prendere Un cavallo Nello specifico Monta 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 Ok Uno Due Tre Ah Ok Devo resistere Il più possibile In realtà Quindi aspetterò Che ritorni Qui da me Monta Monta Ok Uno Due Tre Ok Ok Gente Ok Ne ho trovato Uno Quanto Tornado Adesso Lo vado Sicuramente A equipaggiare Gente Velocissimo No No Tornado Ok Gente Questa È la torre Topografica Ora L'importante È capire Come andare Sopra Tornado Sei venuto Fino a qui Da solo Mi meraviglia Allora Quello che voglio fare È creare Un ponte Galleggiante In realtà Quindi Mi serve Un po' Di spazio Penso Che Lì Sarebbe Perfetto Per l'appunto Adesso Sguizzo E poi Uso Una delle abilità Più utili Al mondo Ovvero Ascensium Ok Let's go Ok Torre del monte Di Labul Fatto Stiamo andando Se non erro Verso Questa zona Questa zona Qui Molto probabilmente Per un'isola Nel cielo Non so il perché Ma c'è Una puntina Detto ciò Sapete che c'è Quello è molto utile È un castello Apriamo Questa torre E let's go Punto di Teletrasporto Fatto E adesso È ora Di innalzarci Nei cieli Ci stanno Tantissime Isole Qui Nel cielo Tra cui Una Voglio assolutamente Andarci Ok Vedo già I sagrari La cosa Che mi impressiona Di più È capire Tutto Ciò Gente Possiamo vedere Anche i ricordi Se li guardiamo Dall'alto Ovviamente Ok E anche Quella dei cieli Molto Interessante Ed è stata Registrata Anche la mappa Dei cieli Ok Quindi noi Dobbiamo andare Da tutt'altra Parte Rispetto Dove stiamo Andando Noi Però Quello è il castello Di aero La gente Io apro Un attimo La paravela Per fare Poi la caduta Libera E poi All'ultimo Paravela Ok Siamo qui Dovremmo andare Lì Però non oggi Detto ciò Noi Qui su Nel cielo Vi salutiamo E ci vediamo Questo pomeriggio Con un altro video Pronti Let's go